Benvenuti su Caffè World. Un minuto per bere un caffè e scoprire una cosina in più di Word. Nella versione 2016, e certamente anche in quella nuovissima 2019, è possibile tenere dei file in pole position, ovvero aggiungere nell'elenco bloccati i file che si vogliono trovare facilmente in seguito. Guarda un po' come si fa! Sono nella schermata principale, apri, voglio inserire segreto tanto con poco nei bloccati, nei file bloccati, ovvero i file che si vogliono trovare facilmente in seguito. Clicco sulla puntina e il file Word, segreto tanto con poco, viene inserito nella lista bloccati. I file che si presentano sotto scaleranno successivamente a seconda del tempo che passa, invece il documento segreto tanto con poco resterà nei bloccati e sarà facilmente reperibile nel momento del bisogno. Tutto qua! Grazie per l'attenzione, se il video ti è piaciuto, metti un mi piace, registrati al canale, e condividi il video con i tuoi amici e con i tuoi colleghi. Condividi il video con i tuoi amici. E chiaro, è sempre, condividi con i tuoi amici e colleghi. Se non ti è piaciuto, lascia un commento, lascia un commento, e un mi piace. Trova tanti altri corsi interessanti su www.macravis.it Alla prossima! Ciao! E poi c'è un po' di ciao. E alla prossima! Ciao! Beh, se lui si... No, devo volerlo a presto!